salve cari benvenuti in questo nuovo video oggi sono qui per parlare di MILF è un argomento molto leggero perché voglio parlarvi di MILF perché io comunque ho avuto esperienza negli ultimi anni col MILF non vi racconterò le mie esperienze semplicemente perché ancora non me la sento ma ci sarà un giorno che vi racconterò questa esperienza che è iniziata bene continuata insomma è finita una merda ma questo arriveremo un giorno ci arriveremo un giorno io voglio dirvi la mia sulla questione MILF io fino a 3-4 anni fa sì 4 anni fa non avevo nessun tipo non ho mai avuto nessun tipo di relazioni con MILF mai mai poi tutto d'un tratto è capitato e dal di lì si è più fermato non so il perché non so il perché io vi dico una cosa le ragazze di adesso quelle di 25 26 27 anni no quindi che non sono giovanissime ma non sono manco vecchie no e difficilmente una di 25 26 anni può essere MILF che difficilmente ha dei figli però devo dire che cambia completamente perché perché una ragazza che è libera magari si diverte si diverte con più uomini e a posto lì una MILF che magari è sposata ha dei figli e magari con la relazione con il marito non va bene dice vabbè e si trattiene vabbè e si trattiene vado avanti e mi trattengo non va bene perché poi cerca per forza uno più giovane che non vuole una relazione con quella persona vuole semplicemente divertirsi e ci siamo capiti cosa intendo divertirsi ok e quello sono io quello sono io perché io non voglio nessuna relazione non voglio assolutamente nessuna relazione sono concentrato su altro non ho intenzione di stare con nessuna e quindi vado a pari passo con questa cosa e vi dico quello che ho passato io nel senso il mio pensiero in quel momento le MILF sono super super passionali molto di più di una ragazza normale normale nel senso più giovane molto di più e questa cosa mi sono dato una spiegazione semplicemente come vi ho detto prima è perché magari si trattengono non facendolo per tanto tempo con il marito o comunque facendolo ma non divertendosi quando trovo una persona e si possono divertire con quella persona diventano delle maiale allucinanti veramente io sono sorpreso di questa cosa mi ero sorpreso la prima volta ho fatto cose che non avevo mai fatto ok che non avevo mai fatto poi che mi siano piaciute o meno quelle un altro discorso però ho fatto cose che non avevo mai fatto vi dico anche un'altra cosa anche se una MILF è interpassionale ok e magari vi dice frasi tipo tu se ti vedo se ti prendo non sai cosa ti faccio tu non ti puoi aspettare tu vedrai cosa ti succederà quel vedrai quel vedrai è un vedrai che non vedrai mai perché no fidati non è così non tutte le MILF sono brave a fare quello che dicono chiaramente lo fanno anche gli uomini questa cosa qui è anche gli uomini dicono eh ma te prendo e te spacco e vedi eh però se una MILF ti dice una cosa del genere tu non hai mai avuto nessun tipo di relazioni con lei ci credi un pochetto ci credi perché dici oh madonna mia cosa mi fa mi attacco al soffitto comunque mi attacco al lampadario e lei cosa fa mi fa girare mi fa fare il questo non lo so col cazzo faccio l'elicottero non lo so e questa cosa mi ha fatto pensare perché poi come vi ho detto è successo ma non mi sono per nulla divertito la seconda volta non mi sono per nulla divertito ho detto vabbè lei lei diceva eh non sai cosa ti perdi vabbè potevo anche perdermelo cioè nel senso non no no poi vabbè per carità dipende anche la situazione eh dipende anche molto la situazione il tempo vi parlo di questo perché è quello che ho vissuto io la situazione tipo fare una roba del genere in macchina è scomodo soprattutto per l'uomo il tempo anche quello se si è se si ha poco tempo è difficile bisogna far tutto in maniera molto veloce e non si conclude neanche presente vabbè questo lasciamo perdere e così ragazzi io credo che le milf siano semplicemente eh donne che non sono soddisfatte nella propria relazione e quindi cercano un giovane un giovane comunque un altro uomo anche se non era giovane comunque un altro uomo per divertirsi e basta e per carità non gli do contro perché ognuno nella propria vita ripeto fa quello che vuole può fare quello che vuole nella propria vita però questo è un consiglio che voglio dare alle milf non vi spacciate per quello che non siete non dite ah io faccio questo sono bravissima io faccio questo sono bravissima in realtà capito io non mi spaccio per niente quindi poi se a qualcuno piace è tutto di guadagnato capisci quindi non vi spacciate per quello che non siete perché fate star male l'altra persona cioè ci rimane male io ci sono rimasto male e ragazzi che dire spero che questo video vi sia piaciuto è un video molto leggero visto che siamo in estate non se lo vedrà nessuno ma fa nulla e ci vediamo prossimamente ragazzi ci vediamo prossimamente sempre su questo canale mi raccomando grazie per avermi ascoltato lasciate like condividete il video e ditemi quello che avete passato qua sotto nei commenti sempre se l'avete passato alla prossima grazie